Una delle mission del mio modo di fare giornalismo, di fare informazione, è quello di dare voce a chi non ha voce e far sì che i diritti degli esseri umani, prima ancora che dei cittadini, vengano sempre rispettati. Motivo per il quale sono qui a Taranto, presso la sede di Atrat Onlus, associazione trapiantati di Taranto, con il suo presidente Francesco Vincenzo. Tanti anni di lotte, di battaglie, ma tanti diritti negati. Davvero la misura è colma. Ho avuto modo di ascoltare il presidente e in questa sede vogliamo evidenziare quelle che sono davvero dei diritti negati, quelli che sono degli schiaffi, tra virgolette, che l'ammalato riceve. E parliamo di ammalati gravi. Certo. Stiamo parlando di persone che sono in attesa di trapianto di organi o che sono stati trapiantati. Noi negli anni passati, e parlo del 95, presentiamo una proposta di legge a livello regionale che a novembre 96 fu approvata all'unanimità, e dico all'unanimità, dal Consiglio regionale dell'epoca e oggi abbiamo una legge, la 25-96. Questa legge permette di usufruire del rimborso delle spese sostenute da questi pazienti, persone trapiantate e ancora in attesa di trapianto, di queste spese che loro sopportano in altre regioni e addirittura anche all'estero. Abbiamo avuto già dall'inizio dei problemi per capire il senso di questa legge. Teniamo presente che all'epoca questa legge era formata soltanto da quattro articoli. Abbiamo pensato che fosse stata recepita dalle ASL, in particolare quella di Taranto. E invece? Eh, ahimè, siamo arrivati al 2021 e questa legge non è assolutamente... Ci dica proprio in che cosa sono, in che modo e in che misura questa legge è stata disattesa? Allora, tanto per iniziare e per quanto riguarda i rimborsi. Allora, decine di assistiti della nostra associazione avanzano ancora a migliaia di euro per pratiche non liquidate, non prese neanche in seria considerazione. Ci hanno anticipato di tasca loro. Certo, e stanno ancora in attesa di avere questi rimborsi da oltre tre anni. Soltanto che noi con l'ufficio legale abbiamo intrapreso un'azione legale nei confronti della ASL che è stata in un certo senso bloccata perché il Tribunale, dove noi ci rivolgevamo, cioè il giudice di pace, ha dichiarato la non compatibilità col giudice di pace per questo tipo di caso. Incompetenza. Incompetenza con questo giudice di pace e chiaramente dobbiamo adesso aspettare, ritirare tutte queste pratiche e passarle al giudice del lavoro. Ecco, allora io dico questo, direttore Rossi, direttore dell'ASL di Taranto. Ma perché andare a imbarcarsi in certi contenziosi rispetto ai quali sicuramente l'ASL risulterà soccombente? Perché non riconoscere questi diritti dell'ammalato, di questa gente che sta soffrendo terribilmente? La burocrazia deve anche umanizzarsi, ma qui non si tratta di burocrazia, qui si tratta soltanto di applicazione della legge. La legge non si interpreta, si applica, dottor Rossi. In particolare volevo chiarire e sottolineare che questi tagli sono stati effettuati a parte di alcuni distretti, ma in particolare, dico io, di un unico distretto, unico di nome e di fatto, cioè il distretto unico, che sta applicando la legge a un modulo tutto loro. Allora, i rimborsi, tagli ai rimborsi, partiamo da tagli di 20 euro, 40 euro, 300 euro, 500 euro. Per quale motivo? Non ci viene neanche data la possibilità a noi come associazione di verificare cosa è stato tagliato. Cioè tutto il risparmio dell'ASL è in 20 euro? Certo, in alcuni casi di 20 euro, in altri di 2.000-3.000 euro. Ora, pratiche, non pagate di 3.000 euro. Perché dobbiamo andare a finire in un tribunale quando c'è un diritto che è acquisito da parte dell'assistito? Ecco, voi in più occasioni, evidentemente, avete sollecitato l'ASL, avete rimarcato questo vostro diritto. Però, evidentemente, forse, non so, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire? Il problema lo sa qual è. Io l'ho sentito pochi giorni fa in televisione. A Rete 4 è stato detto dalla presentatrice chi controlla il controllore. Evidentemente all'ASL di Taranto, in particolare al distretto unico, gli dà fastidio che qualcuno controlli. Noi, tutte le pratiche di rimborso, come lei può ben vedere, facciamo le copie fotostatiche. Quindi, le facciamo per quale motivo? Per tutelare le persone che non hanno il rimborso giusto da parte del... Per controllare, appunto, che il rimborso sia integrale. Certamente, ma questo non avviene. Il distretto unico, l'ASL di Taranto, non se ne frega più di tanto. Certamente noi abbiamo sollecitato, non solo il direttore generale dell'ASL di Taranto. Abbiamo interessato numerosi consiglieri regionali che non hanno recepito la... Il governatore Emiliano? Principalmente è stato anche interessato Emiliano. Emiliano è più interessato a mettere la prima pietra, sempre la prima pietra, sempre la prima pietra con tante inaugurazioni. Emiliano è un ottimo attore. Allora, tenga presente che Emiliano mi ha detto, ma signor Vincenzo, io cosa posso fare? Dice così a tutti. Cosa posso fare per lei? Cosa posso fare se Rossi è il direttore generale dell'ASL di Taranto? Io gli ho risposto educatamente. Mi scusi, presidente del Consiglio, ma mi faccia capire, chi ha nominato Rossi, direttore generale dell'ASL? È lei che l'ha nominato. Rossi, nei confronti del capo distretto, il dottor Blassi, mi ha detto le stesse cose. Chi sono io che posso intervenire? Ma gli ho risposto, direttore, ma questo direttore generale dell'ASL, chi l'ha nominato? È lei chi l'ha nominato? Non certo io. Bene, e allora, noi non vogliamo fare polemiche. Noi accettiamo un confronto, noi chiediamo meglio un confronto pubblico, coran popolo, davanti alle telecamere, perché il presidente Francesco Vincenzo prende le carte e le mostra e fa vedere tutte le cifre inerenti ai rimborsi. Se l'ASL, come credo sia convinta, è nel giusto, lo dimostrasse, si confrontasse, perché qui non vogliamo avere né vincitori né vinti. Gli unici che devono vincere sono gli ammalati, punto e basta. Però, viva Dio, quando vi stanno mostrando le cifre, almeno abbiate la decenza di rispondere, no, direttore Rossi? Gli unici che devono vincere la decenza di rispondere, no, direttore Rossi? Gli unici che devono vincere la decenza di rispondere, no, direttore Rossi?